Ciao ragazzi, al Festival della Palamano di quest'anno per la prima volta sarà presente lo Street Handball. Mi state chiedendo che cos'è? Ecco le regole. Ogni squadra schiera in campo 4 giocatori senza ruoli fissi. Il portiere può giocare anche in attacco e di volta in volta qualsiasi giocatore può schierarsi anche in porta. Si gioca in due tempi da 10 minuti ciascuno. Non è consentito il contatto fisico né alcun tipo di contrasto, ma è consentito intercettare tiri e anche i passaggi. È consentito effettuare un massimo di 3 passi con la palla in mano, ma è vietato palleggiare. Ogni squadra deve effettuare almeno 3 passaggi prima di tirare in porta. Si gioca a squadre miste e ogni rete vale un punto, ma se segna una giocatrice la rete vale 2. Lo Street Handball in tre parole? Facile, divertente e adatto a tutti. Un gioco da ragazzi insomma. Ora tocca a voi formare la vostra squadra. Vi aspettiamo a Misano.